Una bancarotta fraudolenta da 9 milioni e 400 mila euro è stata un'indagine complessa e articolata, quella della Guardia di Finanza di Treviso. Nel mezzo dell'indagine è un imprenditore agli arresti domiciliari e due aziende fallite, l'Euronoleggi SRL nel 2010 e un'impresa individuale nel 2014. Si tratta di un imprenditore edile, operante a Resana, che è stato tratto agli arresti domiciliari il 29 dicembre. A seguito di un'indagine condotta dal nucleo per bancarotta fraudolenta su due fallimenti di tendituale di una SRL nell'arrestato. Secondo le Fiamme Gialle, oltre ad aver depauperato il patrimonio societario, distruggendo e occultando le contabilità societarie, l'imprenditore non ha depositato i bilanci né presentato le dichiarazioni dei redditi a partire dal 2009. Lui spesso e volentieri ha evitato di consegnare alla curatela la documentazione aziendale e poi anche distratto due autovetture, una Mercedes e una Ferrari. La Mercedes poi è stata ritrovata, la Ferrari ancora no. Il recupero della Mercedes è stato fortuito. L'imprenditore aveva detto al curatore fallimentare di non sapere dove fosse finita, ma è stato proprio il curatore a sorprendere per caso l'imprenditore mentre parcheggiava l'auto davanti ad un istituto di credito.